E allora dalla Sardegna torniamo come dicono loro sul continente ma in realtà ci spostiamo molto più in alto andiamo fino in Scandinavia con Cecilia Barella. Buonasera Cecilia. Buonasera a tutti. Appassionata, studiosa ed esperta di letterature dalla Germania in su? Sì, del nord Europa in generale. Il nord Europa quindi sei proprio a casa tua perché oggi parliamo di Selma Lagerlaff. Sì, che ricevette il premio Nobel quasi un secolo fa e quest'anno si aprono ben due anni di festeggiamenti perché in questo 2008... Sì, in questo 2008 festeggiamo i 150 anni dalla nascita e l'anno prossimo nel 2009 festeggeremo un secolo dall'assignazione del premio Nobel per la letteratura. E in particolare l'editrice Iperborea che insomma è il nome tutelare di questi testi. Ha iniziato a festeggiare Selma in anticipo su tutti perché lo scorso dicembre è uscito finalmente la ristampa della saga di Jösta Bering che mancava in Italia da tantissimi anni e con questo libro Iperborea ha festeggiato anche i 20 anni dalla sua nascita. È la casa editrice che ha fatto conoscere la letteratura scandinava in Italia. E soprattutto, non si direbbe, riesce anche ad avere un buon successo anche di numeri se vogliamo. Sì, sì, devo dire... Sono autori come Pasilin per esempio che sono diventati per gli appassionati di cui prendono anche 100.000 copie. Esatto, sì, sì. Gli scrittori scandinavi a sorpresa sono stati molto amati in Italia e continuano ad essere letti con successo. Allora facciamo una cosa, adesso ci rivediamo, una breve clip che abbiamo preparato tratta da un capitolo del romanzo, anche molto suggestivo, c'è molto humus, spirito nordico. E poi torniamo a parlare più dettagliatamente del libro. Allora, vediamoci questo clip. Il lago nasce nell'estremo settentrione, in uno splendido scenario quale meglio non si potrebbe immaginare per un lago. La foresta e i monti lo alimentano d'acqua senza posa. Torrenti e ruscelli vi confluiscono durante tutto l'anno. Ha una sabbia fine e bianca su cui adagiarsi, piccole isole e promontori da rispecchiare ed ammirare. Le undine e i piccoli geni delle acque vi si trastullano liberamente ed esso cresce sempre più grande e bello. Lassù nel nord è lieto e tranquillo. Basta vederlo in un mattino estivo quando si stende ancora assonnato sotto la nebbia leggera per capire quanto è amabile e allegro. Per un poco indugia ancora scherzosamente sotto il velo che lo fusca, poi piano piano scivola fuori della sua lieve coltre, così incantevolmente bello che sulle prime si stenta a riconoscerlo. Ma ad un tratto si libera tutto di quel velo bianco ed appare così, roseo e nudo, splendente nella luce del mattino. Eccoci tornati. Che mondo è questo della saga di Gösta Berling? Questo romanzo in particolare, che è il primo che ha scritto, è ambientato nella regione del Wermland, che è la regione centrale della Scandinavia. Vuol dire terra calda in teoria. Sì, beh sì. Molta in teoria. Quella meridionale, quindi tutto sommato circondata dal resto delle terre e del mare, quindi più riparata, pianure, boschi. E' quella che Selma conosceva meglio, perché è la regione in cui è cresciuta e vissuta da giovane. E lei in questo romanzo raccoglie e cuce insieme, in un certo senso, le storie e le leggende che aveva ascoltato da bambina, dalle donne della famiglia, nella casa del padre dove era cresciuta in Campania. Sentì subito la vocazione per fare la scrittrice. Sì, sì. Aveva proprio una... Fu anche insegnante per dieci anni. Quindi comunque era un mondo, quello delle lettere, che le interessava a tutto tondo. Anche la divulgazione. Infatti un altro dei suoi romanzi più famosi è Le avventure meravigliose di Nils, che è diventato uno dei classici per ragazzi in tutto il mondo. C'è sempre anche un sottofondo, non dico di magia, però di incanto, non in queste opere. Sì, questo senz'altro. Però Selma fu anche una donna, secondo me, molto calata nel suo tempo, contrariamente a quanto si crede. Chi la criticò soprattutto furono i naturalisti, i positivisti di fine dell'Ottocento. Perché questo romanzo è un po' diverso da quello che c'era in quel momento nel clima europeo, il verismo in Italia, per esempio. Perché c'è una commistione tra reale dimensione epica. Forse una realtà che era poco conosciuta nel resto d'Europa, quella scandinava, che però era qualcosa di molto reale per lei. Il lettore invece del XXI secolo oggi, cosa può trovare di suo gusto? Forse un po' proprio gusto, una parola eccessiva, però come si può trovare a casa in un libro del genere, secondo te? Ma secondo me questo romanzo e la sua opera in generale contengono già i tratti tipici della letteratura scandinava. E cioè, a prescindere dall'ambientazione, a prescindere dai personaggi, il fattore comune è il trattare i temi essenziali della vita, i temi esistenziali. E questo lo ritroviamo in Selma Lagerlof, lo ritroviamo in autori contemporanei come Gustafsson o Larsson, per esempio. Quindi cambiano gli scenari a volte, però i temi sono sempre quelli. Quindi il confronto con la vita, con l'uomo, nei suoi sentimenti, nei suoi problemi fondamentali. Si può anche sfatare un altro mito di superficialità, quello per cui sarebbero scrittori freddi. Di freddo forse ci sono sotto le latitudini che scrivono, no? Sì, sì, penso di sì, assolutamente sì. Sono introspettivi, quindi a volte è quello forse dall'impressione di freddo. Senti, è il titolo della saga, quindi riprende anche un po' certe movenze tipiche delle antiche saghe nordiche. Sì, sì. C'è un clima molto epico, dicevi tu. Sì, questo... Anche una grossa coralità, no? Di personaggi, di cose, di sensazioni. Molto, è una storia anche molto... Non la raccontiamo perché ci vorrebbe molto tempo. Sarebbe impossibile. È ricca di personaggi e anche di colpi di scena, in un certo senso. E lei fu influenzata ovviamente dalla sua cultura d'origine e anche dalla biblioteca di famiglia, perché il padre aveva una bella biblioteca anche ricca di testi classici e romantici. Quindi questa fu un'influenza del padre, una figura per lei molto importante, lo ricordò nel discorso per il vicimento del Nobel. Senti, in conclusione, per chi volesse approfondire oltre a questo altri titoli a disposizione del lettore italiano? E' un po' interessante, è uscito da poco tempo, anche questo per fortuna ristampato da poco tempo, è Il carretto fantasma che è pubblicato dalle edizioni Robin. E' un racconto che si ispira un po' a Dickens, al racconto di Natale di Dickens, al canto di Natale. E questo secondo me è interessante, perché fa vedere anche il legame che c'era tra la Lagerlof e la letteratura vittoriana. Europea, vittoriana, che è quella che sintetizza in un certo senso l'epoca moderna con lo spiritualismo anche dell'Ottocento. E poi io direi anche per gli adulti il romanzo per ragazzi, che sicuramente è un capolavoro per tutti. E troviamo altri titoli comunque sempre presso l'editore Iperborea, Gerusalemme ed altri. Benissimo, poi vi rimandiamo anche alle pagine del nostro sito www.lacompagnadelibro.tv dove c'è appunto un testo scritto da Cecilia che spiega ancora meglio con una piccola, mini bibliografia. E allora grazie per averci seguito fin qui, grazie a Cecilia Barella. E torniamo in studio, ritroverete me, tra un pochino ovviamente dovremo il tempo di andare, perché è il momento di fare il punto della situazione dei nostri giochi.